Ciao a tutti, io sono Mauro e volevo appunto recensire un prodotto che è praticamente un tracker GPS, questo qua, il TKR1 Advanced. Questo mini GPS è praticamente in grado di localizzare un'auto, una moto, insomma, un qualsiasi oggetto, insomma, anche volendo guardare sulla descrizione c'è scritto anche un drone. Ecco, quello che volevo appunto farvi notare è che questo GPS al suo interno possiede una piccola calamita per poterlo poi collocare su parti metalliche. Il problema di questo tracker per adesso che non l'ho ancora utilizzato quindi non so ancora bene come funzioni, subito mi sono accorto che ha un difetto tra virgolette per quanto riguarda i droni, come in questo caso il Mavic Pro della DJI, che come tanti altri droni possiede un compass, un giroscopio. Ecco, questo tracker praticamente adesso vi faccio vedere che cosa fa. Quindi, giusto per farvi capire, adesso ci prepariamo con le impostazioni del Mavic, le mettiamo in funzione, quindi a questo punto il drone è pronto. Ecco, la situazione è questa qui. Nel momento in cui voi appoggiate, quindi posizionate il compass, il tracker scusate, come potete vedere il drone, quindi l'app, dà errore compass. Questo perché? Perché la calamita dà fastidio al giroscopio. Quindi, in qualsiasi posto voi lo potete posizionare, come potete vedere, dà errore compass. Quindi, al momento in cui voi togliete il tracker dal drone, l'errore sparisce. Ok, quindi quello che volevo appunto farvi vedere, vedete? Ecco, l'errore è questo qua. È che se voi acquistate questo tracker, che probabilmente funzionerà bene per altri utilizzi, come magari in auto, su una moto, su una bici o altre tipologie di veicoli, funziona bene. Ma se voi lo utilizzate con un drone, esempio questo Mavic Pro della DJI, vi darà errore al compass, quindi non lo potete utilizzare perché questo tracker ha la calamita. Come potete vedere, appena voi avvicinate la calamita, dà errore. Quindi, bisognerebbe forse modificare la descrizione dell'oggetto per quanto riguarda i droni, perché c'è scritto appunto che si può utilizzare per i droni, bisognerebbe modificarla dicendo appunto che, attenzione, solo droni senza compass o giroscopio. Ok? Grazie mille per la vostra attenzione, spero di esservi stato utile. Vi saluto e buona giornata.